Allora ragazzi qua il disastro sta continuando, qua sono sempre sulle patate, poi qua mi hanno anche, sono andati anche sui fagiolini purtroppo, vedete che qua ho fatto un bel lavoro con tutta la pacciamatura, stavano anche nascendo, e qua è qua dove sono passati. Anche qui fagiolini abbattuti, però c'è, potrebbe esserci una svolta, poiché qua vedo che hanno scavato, cioè si sono fatti proprio un tunnel nel bosco diciamo. Un tunnel qua in mezzo alla vegetazione, non so come cavolo, guardate che bel tunnel, quindi magari sono arrivati da qua. Non so se è riuscito a vedere bene, comunque qua questo tunnel non c'era, hanno, quindi vediamo se, se passano da sopra. Dimmi te che, che roba. Quindi adesso sto facendo il giro per andare a vedere, innanzitutto qua c'è già quel piccolo buco, qua è una zona buia perché c'è un sacco di vegetazione. Faccio un attimo il giro, vediamo un po' se si riesce a risolvere, sta, sta situazione. Tac, guardate che buco che c'è qua. Qui c'è un bel passaggio. Eh, ne ho visti due o tre intanto che venivo su. E poi qua c'è un sacco di vegetazione che penso che copre abbastanza, ecco. Quindi bisogna agire su quei buchi, sono gli unici indizi, gli unici indizi da dove possono passare. Intanto qua c'è anche della cacca, quindi penso che gli indizi portano a qua. Adesso non riesco a trovare il collegamento a quel buco lì, a quel tunnel che hanno scavato. Però magari possono scendere benissimo anche da qua. Intanto qua ci sono queste cose qua. e potrei provare a chiudere i buchi con questo. Lì vedete che avevo già chiuso con un pezzo di vetro che ho trovato, esattamente come quello lì. L'avevo chiuso tempo fa. Ma vediamo. C'è più che altro speriamo. Se no che sia quello, se no quali buchi a dove entrano. Ok ragazzi, il lavoro è terminato. Qua è sempre buio. Qua ho messo quello che ho trovato qui in giro. Io li ho fissati con questo filo, in modo che se spingono trovano un po' di resistenza. e poi ho chiuso anche qua con questa lamiera, sempre col filo e poi lì con quel pezzo che ho trovato. Diciamo che gli indizi portavano qua, sia dalle feci che dai buchi. E poi ho trovato anche qualche scavetto, potrebbero essere loro. Poi qua si saranno introforati. Qua nella vegetazione hanno fatto quel tunnel. Quindi speriamo che... Tanto adesso anche se chiudo i buchi non mi aspetto più niente. Tanto so che la sorpresa me la posso sempre trovare. Quindi sarà meglio agire poi di conseguenza. Poi comunque qua bisognerebbe fare... Bisognerebbe fare sempre ogni tutto di mesi un giro per vedere se ci sono buchi e chiuderli. Qua è veramente grosso, è veramente grande il perimetro che dovresti venire qua un paio, due, tre ore e fare solo quello. Tra parentesi questa parte qui non è neanche male se uno dovesse coltivare. Qua ci sono già gli archi per la serra. E' anche abbastanza grande, quindi secondo me qua un orto estivo, autunnale, quello che sia, ci sta veramente tutto qua. Quindi ragazzi per oggi è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle mie avventure qua nell'orto o nel bosco. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video e ti auguro un buon orto anche a te. Ciao! Ciao!